Il progetto che noi stiamo perseguendo è un po' questo, ma in realtà lo stiamo facendo già da diversi anni, cioè quello di allargare l'attività, non solo 15 anni, ma altre attività con un'attività artistica, culturale a 360 gradi. Non si tratta di aprire una seconda sala, si tratta di aprire altri spazi per, per quanto ci riguarda, soprattutto invitare i giovani, perché è il pubblico che ci manca, è il pubblico che vorremmo qui. A me personalmente piacerebbe fare attività musicali, teatrali, presentazioni di libri, cinema, tutto quanto è possibile. L'idea mia è quella che questi spazi devono diventare aperti, quindi non solo cinema, non specializzarsi su un'attività, ma farlo, credo, anche perché poi le cose sono collegate, insomma, la cultura interessa a tutti, gli spettatori del cinema sono anche quelli che vanno a teatro, in molti casi, che vanno a cercare i concerti di musica.